Rami, bel giro! Devo farmi bello con i miei vecchi compagni e ho pensato, cosa c'è di meglio che battere una superstar di Horizon nella tua città natale? Oh, è amichevole come? Ma amichevole non significa facile. Il primo alla basilica vince! Vamonos, si comincia! Quindi, c'è una scena clandestina da queste parti? Chissà, ero solo un ragazzino che imparava a guidare con la madre e gli zii, non arrivavo nemmeno ai pedali. Lo sai, dicono che il pilota di gare clandestine più temuto di tutto il Messico sia di Guanajuato. Ah, davvero? Puoi sì, dicono che non abbia mai perso una gara. Chissà se farà la sua comparsa a Horizon. E questo pilota clandestino tanto temuto ha un nome? Ha molti nomi, lo chiamano El Jefe, El Perron, El Guapo, El Valiente. Un giorno potresti incontrarlo. Ma non se non riesci nemmeno a battere me. Sto per arrivare a Guanajuato. Aspetta di vedere la città di notte. Do il benvenuto a Guanajuato, casa di famiglia Miron, la migliore città del Messico. Il nome significa collina delle rane. Non è molto da gare clandestine. Allora non hai mai visto una rana alla massima velocità, superstar? Chi ha messo un caffè lì? Begni, begni! Scusate, gente! Va bene? Le gallerie sono state costruite per evitare che la città si allagasse, ma sono perfette per El Jefe e le gare clandestine locali. Oh, e fai attenzione, queste strade sono trafficatissime. Eppure ho sentito alcuni piloti dire che il traffico rende la sfida ancora più interessante. Cioè, così si dice. Sei nel tratto finale. La basilica è proprio dietro l'angolo. Se solo El Jefe potesse vederci. Può e come! Adesso taglia il traguardo! La basilica coleghiata di Nuestra Signora di Guanajuato. I piloti vengono qui per chiedere la benedizione alla Madonna. Sai, potrei riuscire a contattare El Jefe. Ho sentito dire che è piuttosto severo al riguardo, ma se pensa che tu sia all'altezza della scena clandestina, allora forse... Ehi! Lo so che sei tu. Ahahahah! Bene così! Allora sei dei nostri! Forza! Andiamo dai miei compagni! Beh, ora il mio più grande segreto è stato svelato. Ho qualcos'altro da mostrarti. Seguimi! Dove stiamo andando adesso? Andiamo fuori città, al nostro ritrovo tra piloti. La tua famiglia sa di El Jefe. Scherzi! Mio padre sarebbe curioso e mio zio Carlos mi sfiderebbe prima di ogni pranzo in famiglia. Beh, non puoi più mantenere, segreta, la scena clandestina. Dovrai mostrare a questi piloti come si fa. Non hanno mai partecipato a un festival prima d'ora. Di sicuro impareranno velocemente. Lezione numero uno. Dare alla gente ciò che vuole. Che cosa vuole la gente? Qualcuno disposto ad aggirare le regole. E abbiamo compagnia! Ecco i miei compagni. Quando abbiamo inaugurato questo ritrovo eravamo solo dei bambini che correvano in vecchi vocios. Da allora piloti, motori e feste sono tutti... ...crasciuti un po'. Tra parentesi, scusa per tutto il mistero. È stato bello visitare casa come me stesso, tanto per cambiare. Come? Grazie per avermi mostrato la tua città, Rami. Nessun problema. Le gare clandestine di Horizon ti accolgono a braccia aperte. Non ciò che vuole un'infaccio aperte. Alla prossima. Non ciò che vuole un'infaccio aperte. Grazie a tutti.